Ciao amici di Italiato Games, buongiorno, lunedì 20 maggio, buon inizio di settimana, premo il tasto conferma e andiamo a vedere le novità di oggi in eFootball 2024. Spoiler, le anticipazioni venerdì erano tutte corrette. Anche quel Paolo Sergio di cui avevo molti molti dubbi, in realtà il pool European Club Attackers e il fatto che ci fossero tutti i giocatori europei in evidenza mi ha messo un po' in allarme da quel punto di vista. Viglia e Van Basten erano confermati, tutti e due 99, Paolo Sergio 97. Vediamo se si parte sì con il video loro, eccole qui. Viglia, Van Basten e Paolo Sergio. Ecco Viglia, Ale, bel gol di testa, contro una squadra generica, David Viglia. Ecco qui, o è, boost 99. Maglia ovviamente non ufficiale. E poi andremo a vedere Van Basten, presumo, eccolo. Un'altra maglia storica del Milan. Sponsor Mediolanum, come si può vedere. Van Basten, boost 85, anche lui va a 99. Ragazzi, oggi non dovrebbero esserci nuovi obiettivi per Beckenbauer, perché l'ho letto un po' in giro, i nuovi obiettivi sono stati già annunciati per giovedì da parte di Konami. Giovedì questo e giovedì anche quell'altro. Paolo Sergio, eccolo qui, Bayern Monaco, boost 97, due punticini in meno rispetto a Viglia e Van Basten. Con il numero 13. Oh, bello questo gol. Ed eccolo qua. Quindi, le tre leggende di oggi sono quelle confermate. Io su Paolo Sergio, ripeto, European Club Attackers, poi andremo a vedere i giocatori in evidenza, erano tutti europei e mi aveva creato il dubbio. Invece era tutto corretto. Intanto, qui prendiamo il primo bonus di accesso. Abbiamo un bel po' di giri gratis per Beckenbauer. Noi fine settimana ho fatto gli obiettivi che mi mancavano, ma questa è un'altra storia, ne parleremo magari domani. Allora, andiamo a vedere gli eventi di oggi, che saranno i soliti due. Sì, vedo qui l'unlimited. Vediamo un po'. Entriamo. Non ci sono preclusioni di sorta. Possiamo utilizzare qualsiasi tipo di giocatori. E ci sono 50 monete di football, 1 aggiunta abilità e 2 aggiunte abilità. Un po' un classico, però ecco, in questo caso non ci sono giocatori particolari. Anche gli eventi, ragazzi, per sempre il boost, scusate, il pool di Beckenbauer sarà sempre giovedì. Infatti, qui non ci sono novità, a parte European Clubs. Andiamo a entrare nel gioco. Anche qui non si può usare qualsiasi tipo di giocatore. Andiamo però a vedere. I giocatori bonus sono quelli delle squadre europee. Inilterra, Italia, Spagna, Francia. 30.000 GP e un'aggiunta posizione. Niente di che, proprio il solito aggiornamento del lunedì, classico-classico. Non credo che ci siano novità per quanto riguarda i punti football, ma lo vado a vedere così, tanto per... Ecco, questa cosa, ragazzi, è veramente incredibile, per non dire di peggio, incredibile. E allora, poi andiamo a vedere questo pool. Ah, sta scadendo il contratto inato, vabbè, 6 giorni ancora, facciamo magari domani. Allora, non c'è altro di nuovo. J-League, Worldwide, Liga, English, Spanish, Italian, che finisce fra 23 giorni, quindi niente di nuovo. Allora, European Club Attackers, eccoli qua. Allora, andiamo a vedere i giocatori in evidenza che mi avevano messo... Dialog, 79, Sporting Praga, queste le sue abilità giocatore, 34 livelli di crescita, spagnolo. Vergua, olandese, 32 livelli di crescita, e queste le sue abilità giocatore. Pavlidis, greco, 81, 34 livelli di crescita, Bagneter, francese, 29 livelli di crescita, queste le sue abilità giocatore, parecchie. Zaccagni, Lazio, Italia, come vedete c'ha quei due 80, 29 livelli di crescita. Maddison, inglese, lui parte 83, 33 livelli di crescita. Jokeres, svedese, dello Sporting in Portogallo, 31 livelli di crescita, 83. Come vedete, sono tutti europei e questo mi aveva fatto pensare che non fossero, appunto, non fossero club europei, ma giocatori europei. Infatti si vede pure lì, ah, European Clubs però, si legge. Vabbè, 86 in dribbling, 85 velocità, accelerazione 84, 31 livelli di crescita, e queste le sue abilità giocatore. Dembele interessante, indubbiamente, mi sembra che sia uno, sia il più interessante dei giocatori in evidenza. E poi, le tre leggende bustate. Paolo Sergio, con il busto aumenta di due livelli, 29 livelli di crescita. Bayer Monaco, 99, 2000. Suo top dribbling con 86, 85. Gestione del pallone, più due. E ha un bel po' di abilità giocatore. E' un esterno destro, però, come potete vedere, in alto va bene sia a sinistra, a destra, che come trequartista, almeno stando al grafico lì, lì su. Poi andiamo su David Villa, opportunista, 85, Valencia, 2005-2006. Anche lui prende due punti con il busto. Infine, 32 livelli di crescita, 84, istinto da attaccante più due, e anche lui di abilità giocatore. Ne ha parecchie. Infine, Marco Van Basten, Milan, 91-92. Anche lui, più due, grazie al boost, 31 livelli di crescita, rapace d'aria. Finalizzazione, 85. Parte da 85, davvero tanto. Istinto da attaccante più due. E qui, le sue abilità giocatore che potete vedere, passaggio di prima, passaggio filtrante, colpo di testa, colpo di tacco, finalizzazione acrobatica. Insomma, un signor giocatore. Abbiamo visto, 99-99 e 97. Ragazzi, mi fermo qui, perché non c'è altro da vedere. È il solito, solitissimo evento del lunedì. Per quanto riguarda le novità su Beckenbauer, gli obiettivi e il login. Il login continua tutti i giorni, ragazzi. Se ancora non l'avete beccato voi, me, loggatevi tutti i giorni per prendere sempre il giro gratis. E poi, se avete già completato gli obiettivi, tranquilli. Arrivano giovedì, anzi, ve lo mostro pure. Obiettivi della campagna, aggiungeremo nuovi obiettivi in periodi elencati qui sotto. Raggiunte queste nuove sfide, ora potete completare tutti gli obiettivi. Ogni settimana vengono aggiunti nuovi obiettivi, quindi provo a completarli tutti e fai il pieno di ricompense. 23 maggio, giovedì questo, fra tre giorni, e giovedì 30 maggio. Quindi, continuate a allogarvi per prendere tutti e 21 i giri gratis. Aspettate giovedì, se avete già completato gli obiettivi, che lì ce ne sono addirittura 50. Abbiamo fatto le varie ipotesi, c'è chi dice che quando uno avrà superato i 50 giri e il pull sarà stato completato, non si potrà fare niente. C'è chi invece dice che si potrà resettare, lo scopriremo solo vivendo. Quando avremo preso almeno 51 giri, vedremo come sarà. L'importante, credo per tutti, sia quello di beccare Beckenbauer. C'è chi l'ha preso al primo giro, c'è chi dopo 20, 22, 23 giri ancora non l'ha preso. Staremo a vedere, domani magari qualche cosina ci sarà anche da questo punto di vista. Ragazzi, per il momento è tutto. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Questa sera si continua con il campionato alle 20 e è il prossimo appuntamento del canale. Salvo, ovviamente, Breaking News. Buona giornata e buon inizio di settimana. Ciao!